La domanda potrebbe essere retorica. Già sapevamo tutti quanti da ieri che ci stava l'avventamento della provincia. Già sapevamo che era assolutamente necessario che questo avventamento poter già passasse al progresso dei risultati dei conti. Avevamo tutti ieri a poter votare le risultati dei conti, non so per quali vanno questa avventamento da quello fatto. Oggi, solo perché il consiglio del Partito Socialista in questo momento è quello di associarsi agli altri problemi di proposizione e di ricercare assolutamente il progresso. Grazie.